Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Rosario Fiorello nasce a Catania il 16 maggio 1960, primo di quattro fratelli. Gli altri sono Anna, negoziante, catena, scrittrice e conduttrice, e Giuseppe. Attore il suo secondo nome, Tindaro, è un segno di devozione verso la Madonna Nera del Tinderi. Suo padre Nicola, 1932-1990, è stato appuntato radiotelegrafista della Guardia di Finanza, ed è originario di Letoianni, me, e sua madre Rosaria Galeano è originaria di Giardini Naxos. Non ho capito la gioia della sala stampa per il quarto posto di ultimo, ha detto. Per poi aggiungere che probabilmente si tratta di un'antipatia personale, e chiusare con non è stata una bella cosa. Ha ragione, dicono che lo showman si sia scusato con la sala stampa, dicono. E qui ci teniamo a dire che in sala stampa ci sono tantissimi giornalisti e ovviamente si parla di alcuni, alcuni, alcuni. Davvero c'è qualcuno che ancora ce l'ha con ultimo per la reazione alla vittoria di Mahmood nel 2019? Il temperamento del cantautore è infastidito o infastidisce al punto da gioire se le cose, per lui, non vanno nel modo migliore. Un'altra ipotesi sull'astio che genera ultimo potrebbe essere il suo sfuggire ai meccanismi di promozione e marketing, per cui uno non percepisce la sua presenza a meno di non essere un suo fan salvo puoi vederlo riempire stadi su stadi. Dà fastidio questo. Dà fastidio il fatto che ultimo abbia la cosa più preziosa di tutte. Una fanbase affezionata, che se ne frega dell'essere cool. Che aggettivo orrendo è? Dell'andare alle feste giuste con le persone giuste.